Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voglio condividere con voi un paio di versetti dal Vangelo di Giovanni e leggo dal capitolo 10 del Vangelo di Giovanni a partire dal verso 17. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprendermela. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Che Dio ci dia grazie e che renda viva e vera questa parola in ognuno di noi. Queste parole ci presentano un dilemma. Gesù dice ho il potere di dare la mia vita per poi riprendermela. Se facciamo un passo indietro, nei versetti che precedono quelli che abbiamo appena letto nel capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, Gesù si presenta in diversi modi. Fra questi possiamo rivedere la porta dell'ovile e come il buon pastore. Queste particolari attitudini, essere la porta dell'ovile, essere il buon pastore, ci portano a riconoscere il fondamento del lavoro di Gesù. Gesù è venuto al mondo, il Dio che si è incarnato, che si è fatto uomo, con delle finalità ben precise. E la finalità che ha animato sempre il ministero di Gesù nel suo cammino è stato quello di poter essere totalmente aderente alla volontà del Padre, cioè fare il compito che Dio aveva affidato. Dio ha dato un mandato, Gesù è venuto al mondo con un mandato. Il mandato che Gesù ha ricevuto era quello di predicare il regno per la salvezza e per la riconciliazione dell'umanità. Ora, ed è proprio verso il Padre che Gesù afferma una tanto profonda ma quanto reciproca conoscenza. Gesù dichiara di sentirsi amato in qualche modo dal Padre ed è proprio questo amore che lo spinge fino al punto di riversare questo sentimento così forte, così vero, così pregnante, offrendo se stesso per adempiere al desiderio del Padre e nel contempo e contestualmente proprio per amore del mandato che da Dio aveva ricevuto. La cosa straordinaria nei versetti che abbiamo letto è che Gesù non manifesta nessunissima difficoltà, nessuna remora, nessun timore, nessuna paura, nello scegliere, nel decidere di immolarsi per soddisfare suo Padre, attuando quello che poi sarà il proponimento di Dio Shoé, essere strumento di retenzione per portare a compimento al Ministero della Riconciliazione. Ora, noi dobbiamo comprendere che la retenzione, per essere efficace, deve contenere due elementi. Il primo, la retenzione prevede una morte, ma contestualmente deve prevedere anche una resurrezione. Ora, noi non possiamo considerare una manifestazione d'amore più alta se non quella di offrire la propria vita per la salvezza dell'umanità, se non quella di offrire la propria vita per onorare il Padre. La pienezza dell'amore di Dio, invece, verso il Figlio, raggiunge il suo culmine quando Gesù sceglie liberamente la via del Calvario. Spesse volte mi sono trovato a riflettere su questo pensiero e spesse volte mi sono anche domandato se questa forza d'animo potesse essere in qualche modo presente nella mia vita. Gesù ha scelto di fare quella strada e l'ha scelta per amore verso il Padre, ma soprattutto per essere Lui stesso manifestazione pratica e concreta dell'amore di Dio. quello stesso amore che è stato enunciato dallo stesso Vangelo di Giovanni al capitolo 3 al verso 16 qualcuno dice che questo versetto è il cuore della Bibbia Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo onigenito figliuolo affinché chiunque creda non perisca ma abbia vita in Lui. non si tratta di una scelta unica Gesù non ha scelto semplicemente di andare a morire non ha scelto di immolarsi quale martire ma Lui ha scelto di morire e poi ha scelto di potersi andare a riprendere la propria vita questo ci porta a capire, a comprendere che l'intero consiglio di Dio per l'uomo può essere adempiuto solo a condizione che il Cristo muoia ma che poi però risusciti perché se Gesù fosse tornato in cielo nel momento che è spirato sul legno della croce non ci sarebbe stata salvezza e la sentenza di morte peserebbe ancora su ciascuno di noi. Per compiere l'opera di redenzione è stato necessario che Gesù così come volontariamente ha deposto la propria vita allo stesso modo se la deve riprendere per continuare ad essere e a svolgere il suo ruolo di pastore fino alla fine dei tempi. Non è questa forse la promessa che il Signore Gesù ci ha lasciato? Io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Se Gesù non fosse risuscitato probabilmente non avrebbe mai potuto adempiere questa promessa ma lui è morto e nella sua morte noi siamo stati riconciliati al Padre liberati dal peccato e dall'iniquità ma lui è risorto e nella sua resurrezione noi partecipiamo alla sua gloria e lui è asceso è tornato al Padre e nella sua ascensione noi partecipiamo al suo ministero perché egli intercede per noi. Nei versi che abbiamo letto Gesù pone enfasi su due aspetti essenziali il primo è che nel morire come nel riprendere la sua vita egli agito in maniera perfettamente volontaria cioè senza imposizione di sorta la sua morte e la sua resurrezione erano l'adempimento della volontà del Padre quanto è importante che noi cristiani di oggi e nel momento specifico che la nostra nazione sta vivendo dobbiamo e vogliamo comprendere queste posizioni perché se noi comprendiamo appieno queste posizioni allora riusciremo anche a sapere che Gesù ha scelto liberamente di morire che nessuno gliel'ha chiesto nessuno gliel'ha imposto ha scelto liberamente il percorso dell'obbedienza sapete Paolo ci ricorda questo concetto in maniera molto chiara ed evidente nella lettera ai filippesi al capitolo 2 verso 8 dove dice trovato esteriormente come uomo umigliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce ora proviamo a considerare questo aspetto che a volte a volte siccome è talmente radicato in ciascuno di noi radicato nella nostra confessione di fede lo diamo per scontato e non ci soffermiamo a pensare invece adesso in questo momento proviamo a ricordare e a rivivere ciò che Gesù ha subito ha subito la persecuzione e questo questo fatto questa persecuzione lo porta a spingersi fino al punto più basso ed estremo della sua omigliazione è morto come un criminale nella forma di morte più crudele straziante e degradante ma così facendo però ha adempiuto il piano di Dio mi piace spesso ritornare in quel giardino nel giardino del Getsemani dove Gesù in tutta la sua umanità non dimentichiamo mai che Paolo l'apostolo definisce Cristo vero Dio vero uomo che Gesù in tutta la sua umanità ha gridato ha pianto ha sudato padre se è possibile allontana da me questo calice io mi sono chiesto spesso perché in un frangente come quello Gesù abbia chiesto al padre di allontanare da sé il calice della sofferenza e qualche volta ho pensato erroneamente ovviamente che forse in quel momento il Gesù uomo era assalito da un senso di paura probabilmente la paura c'era ma non era dovuta o non derivava da ciò che avrebbe subito degli appoco ma era una paura che invece scaturiva dal peso dell'iniquità e del peccato dell'intera umanità di quella che l'ha preceduta di quella del suo contemporaneo di quella che sarebbe venuta poi lui sapeva perfettamente che nel momento che sarebbe salito su quella croce sarebbe diventato peccato per tutti ed è per quel corpo inchiodato su quello della croce per quel corpo che si è fatto peccato che noi siamo stati graziati quindi ecco perché Gesù ha pregato se è possibile allontana ma se non è così che sia fatta la tua volontà quindi accettando la perfetta volontà del padre riconoscendo la perfetta in quel momento così particolare che non mirava però attenzione alla sua morte ma bensì all'effetto di quella morte e l'effetto di quella morte era riconciliare la creatura al creatore con questi termini che Gesù ha usato con forza determinazione lascia intendere che in qualche modo lui è padrone della propria vita ed è per questa consapevolezza attenzione impropria per qualsiasi altra creatura egli decide di donarsi per amore e quale manifestazione concreta dell'amore di Dio che forte consapevolezza era presente nel nostro Signore Gesù improprio detto per qualsiasi natura sapete se noi facciamo volgiamo il nostro sguardo indietro c'è stato un momento nelle nostre vite che ci sentivamo immortali padroni del mondo e questo momento più o meno scilla fra l'adolescenza e la giovinezza ma non era consapevolezza era incoscienza pura Gesù qui afferma di essere padrone della propria esistenza padrone della propria vita e decide liberamente di lasciare depositare la propria vita per manifestare l'amore di Dio all'uomo e decide poi di andarsela a riprendere come non possiamo alla luce di tutto ciò non considerare il fatto che Dio uomo quindi Gesù è assolutamente santo e senza peccato e quindi di conseguenza la morte naturale non aveva nessun diritto legale su di lui la gloria di questo sacrificio nasce dall'assoluta volontarietà in quanto Gesù non aveva l'obbligo di morire ma lo ha fatto per amore non a caso lui nei Vangeli dirà poi quale amore più grande se non quello di dare la propria vita ecco quindi che ora noi realizziamo un altro aspetto della croce che il sacrificio di Gesù benché volontario era è e rimarrà sempre un sacrificio sostitutivo perché egli vittima sacrificale designata ha preso il nostro posto facendosi carico dei nostri peccati e in conseguenza di ciò la sua giustizia è stata riversata su di noi anche questo anche questo aspetto è in ottemperanza quanto pronunciato dal profeta Isaia al capitolo 53 verso 5 dove dice il castigo per cui noi oggi abbiamo pace è ricaduto su di lui quindi l'era di Dio è stata riversata su di lui ma la giustizia di Cristo è stata riversata su ciascuno di noi l'asserzione di avere il potere di riprendere la propria vita non è meno importante perché conferma l'affermazione di avere diritto del suo diritto alla vita come dicevo poco anzi di sentirsi in qualche modo padrone della sua vita in questo scenario Gesù ha trasmesso all'umanità intera quell'insegnamento che proviene direttamente dal cuore di Dio e che identifica il Cristo quale porta quale buon pastore in colui che raccoglie cura protegge e nutre il gregge in colui che è la vita e sono proprio queste caratteristiche che abbiamo appena elencato che esprimono pienamente il diritto di poter decidere di dare la propria vita e di riprendersela perciò dobbiamo comprendere che il sacrificio di Gesù non è la fine come qualcuno ha pensato i Vangeli ce lo raccontano Pietro tornò a pescare discepoli sulla via di Emmaus Tommaso la morte di Gesù aveva provocato sicuramente sgomento in qualche modo forse delusione aveva innescato dei dubbi la croce al contrario non ha fermato l'opera di Dio e non è neanche uno strumento di morte ma al contrario la croce è la porta che ci permette di andare alla presenza di Dio che ci libera dal peccato che ci libera dalle conseguenze del peccato la croce paradossalmente diventa uno strumento di vita uno strumento di liberazione uno strumento di guarigione uno strumento di salvezza uno strumento di vittoria alla luce di tutto questo non posso non menzionare le parole con le quali Gesù ha dato la vita ha reso la vita è compiuto un'affermazione categorica e consapevole per dire padre mio quello che tu mi hai chiamato a fare l'ho portato a compimento e l'ho fatto per bene ha fatto bene ora però non possiamo neanche escludere detto questo che la croce ha portato in qualche modo morte a Gesù ma la sua morte è stata una morte temporanea perché così come recita il salmista è scritto di lui tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione e questa affermazione detta dal salmista secoli prima di quell'esecuzione così tremenda ecco è un'affermazione che ancora di più avvalora quella pronunciata da Gesù e che trova quindi l'attempimento sia di quanto detto dal salmista sia di quanto detto da Gesù nella resurrezione lui nella sua resurrezione ha decretato la sua vittoria l'omigliazione di Gesù e la sua esaltazione per mano di Dio sono legate inseparabilmente da un rapporto causa effetto per aver ubbidito per essere stato obbediente fino alla morte della croce Dio lo ha elevato in gloria restituendo a lui quella gloria che gli apparteneva Dio lo ha elevato dalla terra al cielo lo ha elevato dalla terra al cielo quale sostituto del peccato lo ha posto a sedere alla sua destra e alla sua destra lui ha una funzionalità specifica quella di intercedere costantemente per ognuno di noi ed è in questo in questo che noi possiamo partecipare alla sua vittoria ma c'è ancora un aspetto che noi dobbiamo dimenticare così come Gesù è nato come Gesù è vissuto come Gesù è morto risorto e tornato al padre Gesù sta per tornare Gesù sta preparando il suo ritorno e noi come chiesa dobbiamo poter essere al suo fianco come collaboratori anche noi in virtù di in obbedienza ad un mandato che egli ci ha dato andate e predicate l'evangelo ad ogni creatura in un tempo come questo dove la speranza si sta spegnendo sempre di più dove l'economia è in ginocchio dove dolore sofferenza e morte stanno in qualche modo piegando il nostro paese noi chiesa cosa possiamo fare cosa vogliamo fare cosa dobbiamo fare se diciamo di essere partecipi della sua vittoria allora siamo obbligati in qualche modo l'apostolo Paolo diceva l'amore di Cristo mi costringe siamo in qualche modo obbligati a condividere con altri parole di speranza parole che possano portare conforto parole che possano dare un indirizzo e che possano portare ancora salvezza parole che possano esaltare il proponimento e l'amore di Dio per l'umanità intera il suo ministero perciò non è finito l'ufficio di pastore continua egli è sceso sia dalla destra del Padre intercede per noi ha dispensato il suo spirito e questo il suo spirito ci spinge a portare avanti la ministerialità del Cristo mediante l'ubbidienza appunto dicevo al grande mandato e in tutto ciò in questo non siamo soli non siamo soli perché Gesù ha detto Matteo 28 al verso 20 io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente che gran bel compagno di viaggio abbiamo lo spirito santo dimora in noi e Gesù sempre con noi se abbiamo compreso tutto questo allora dobbiamo anche viverlo se oggi possiamo affermare di essere nati di nuovo è perché ci siamo identificati nel sacrificio di Cristo siamo passati per la croce e abbiamo con lui sofferto con lui siamo morti e sepolti per partecipare alla sua gloriosa resurrezione e questa è la nostra vittoria ovvero noi possiamo vivere pienamente questa vittoria se non releghiamo la resurrezione in un concetto dottrinale religioso che abbiamo assimilato nel tempo ma che al contrario la viviamo quotidianamente e vivere la risurrezione quotidianamente significa che giorno per giorno giorno dopo giorno noi dobbiamo bandire da noi ogni sollecitudine ansiosa dobbiamo allontanare da noi ogni paura per ciò che può accadere che potrà accadere domani dobbiamo allontanare da noi il senso se mai ci fosse di indignità e respingendo quello del rifiuto ed entrare perciò a pieno diritto nelle sue promesse e nelle sue benedizioni diventando a nostra volta dispensatori di grazia e di ogni benedizione quella grazia che ci è stata concessa quelle benedizioni che ci sono state promesse e che ci manifestano quotidianamente quanto Dio sia fedele perché la sua parola è vera la sua parola è fedele e non torna mai a lui senza aver portato a compimento il motivo per cui è stata data se noi riusciamo ad entrare in questo concetto allora saremo anche coloro i quali riusciranno a portare ovunque il buon profumo di Cristo ma oggi forse più di ieri abbiamo bisogno di coraggio di fermezza di poter esporre il proponimento di Dio libero scevro da ogni compromesso da ogni imbellettimento ma portare la parola per quello che è mi piace ricordare l'affermazione forte di Paolo io predico Cristo e Cristo crocifisso potenza di Dio questa deve tornare ad essere la nostra predicazione il Vangelo non ha bisogno di essere imbellettato il Vangelo è vero pratico e reale per quello che è ci sono dei principi noi quelli dobbiamo presentare Cristo morto per amore per la tua salvezza e per riconciliare la creatura al creatore quindi questo ci porta ad essere testimoni coerenti e dal momento che siamo testimoni coerenti noi dobbiamo essere ben lontani da ogni compromesso in questo momento in questo tempo che stiamo vivendo ben lontani da ogni sirene da ogni suono di sirena di false dottrine che presentano un Vangelo edulcorato un Vangelo fatto di buonismo un Vangelo fatto di non so che ma l'essenza del Vangelo è Cristo Gesù il Signore e voglio lasciarvi con un'affermazione non mia ma dell'Apostolo Paolo che esprime in maniera sintetica tutto il mio dire fino a questo momento se Cristo è in me se Cristo è in te e noi dovunque andiamo portiamo il Cristo in noi allora possiamo affermare senza ombra di essere smentiti Cristo in noi speranza di gloria che lo Spirito di Dio ci faccia comprendere e vivere giorno dopo giorno la potenza della resurrezione Dio ci benedica insieme di Dio p Grazie a tutti